Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Trovate tutti i link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È il settembre del 1983 a Salt Lake City, capitale dello stato dello Utah. La 28enne Terry Harmon porta la figlia di 10 mesi, Ashley, a fare la sua prima nuotata. John Harmon, il padre di Ashley, anche lui 28enne, immortala questo momento davvero emozionante. Terry viene descritta come una bravissima madre, è speciale, molto protettiva e amorevole. Ashley è la figlia minore dei coniugi Harmon, infatti ha due fratelli più grandi, Jeff di tre anni e Josh di quattro. Terry e John desideravano mettere su famiglia il prima possibile. Dopo un anno di matrimonio era nato il primo figlio, Josh, appunto. I bambini sono molto vicini di età e nei primi tempi non è così semplice tenerli a bada. Terry sottolinea che quegli anni sono stati un vero e proprio caos, ma lei ha sempre amato fare la mamma, amava i suoi bimbi, dunque quel caos cercava di gestirlo come meglio poteva. Ashley è la coca di papà, l'unica figlia femmina e i genitori sono entrambi molto legati alla piccola. John lavora fino a tardi come agente immobiliare, ma ora che ha altre tre bocche da sfamare cerca un lavoro più remunerativo. In realtà John aveva fatto domanda al college di chiropratica di Los Angeles e la colgono soltanto nel settembre del 1986. Certo, nel frattempo erano successe un bel po' di cose che avevano distratto John dal suo obiettivo. Eppure, dopo circa otto anni, lui decide che è proprio il momento di rincominciare a studiare. Così la famiglia si trasferisce nella California meridionale per consentirgli di concentrarsi sullo studio. Terry inizia a lavorare come babysitter, in tal modo può tenere d'occhio i suoi figli e anche quelli di qualche vicina di casa, mentre John studia all'università. Ashley descrive sua madre come perfetta. Si dedicava ai figli completamente e rimaneva sempre a casa con loro. Sa che la sua era una famiglia piuttosto povera, ma sostiene che i suoi genitori abbiano fatto di tutto per far crescere lei e i due fratelli felici e spensierati. Loro tre poi non pretendevano giocattoli costosi e non avevano vizi, quindi si divertivano tantissimo anche con poco. L'importante, alla fine, era stare assieme. John e Terry sono seguaci della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Dunque, sono mormoni. La famiglia frequenta la chiesa regolarmente. I bambini sono coinvolti in attività per ragazzi dove vengono trasmessi loro i principi e i valori morali e l'importanza dell'unità familiare. Queste attività legate alla fede occupano gran parte della vita della famiglia. John, come detto, ha iniziato il corso per chiropratici pur avendo tre figli a carico e mentre prosegue il suo percorso di studi, nel tempo, ne nascono altri due, Abby e Ali. Da piccola, Ashley odia stare da sola, invece ama avere tutti i fratelli e le sorelle accanto a sé. In effetti, ora che è un po' cresciuta, la ragazzina si comporta come una specie di vicemamma per le sue sorelline, dimostra fin da giovanissima di avere un forte istinto materno. Nell'agosto del 1990, la famiglia Harmon si trasferisce a 1500 chilometri più a nord, a Boise, nell'Idaho. John e Terry decidono che non vogliono più crescere i loro figli in California e, difatti, Boise è una realtà molto diversa, una piccola città. A Boise, John vuole aprire uno studio da chiropratico. Per i figli di Terry e John, chiaramente il trasferimento equivale a iniziare una nuova vita e sono un po' spaventati, ma Ashley, in particolare, è felice perché finalmente il suo padre, quando torna a casa, può rilassarsi con loro. Ormai non deve più studiare fino a tardi. Tuttavia, al di là delle apparenze, John e Terry sono in crisi. Ci sono tante responsabilità che pesano sulle spalle di entrambi e questo li porta a passare meno tempo insieme. Terry è sempre impegnata con i bambini. John con lo studio. I due non riescono a ritagliarsi del tempo per dedicarsi un po' l'uno all'altra. Così la coppia divorzia nel 1992 dopo 15 anni di matrimonio. Ashley, all'epoca, ha 9 anni e soltanto adesso si rende conto che non vive in un mondo perfetto, che la sua famiglia non era perfetta. Per lei scoprire che i genitori non sarebbero più stati insieme è un vero shock. I figli maschi, Jeff e Josh, rimangono con il padre a Boise, mentre le bambine si trasferiscono con Terry a Twin Falls, sempre nello stato dell'Idaho, ma a 210 chilometri di distanza. C'è da dire che ogni weekend Terry e John si incontrano a metà strada per consentire ai propri figli di continuare a vedersi e giocare insieme. Per loro ormai questa è diventata un'abitudine. Inizialmente non accettavano tale situazione, ma dopo un po' hanno metabolizzato la nuova realtà. Ashley e le sue sorelle sono molto presenti nella vita di ognuna di loro. Ashley, che è la maggiore, si prende cura delle più piccole. Così, crescendo, le tre diventano davvero inseparabili. Ashley ama ballare e recitare, adora l'atletica ed essere una cheerleader. Ha tanti amici e ha trovato la sua dimensione nella nuova scuola. L'anno dopo, essere entrata nella squadra delle cheerleader di Twin Falls, Ashley diventa capo del team. Terry, la madre, si risposa nel 1997. Di conseguenza, Ashley e le sue sorelle si trasferiscono per la terza volta in sette anni. Si spostano più a sud, stabiliendosi a St. George, nello Utah. Così, Ashley è di nuovo costretta a ricominciare tutto da capo. In un primo momento, nella nuova scuola, si sente insicura. Ma poi, anche lì, entra nella squadra delle cheerleader, assecondando la sua passione. Col tempo, Ashley rivaluta il trasferimento. Adesso si sente una persona più completa. Le sembra di essere di nuovo parte di una vera famiglia. Sua madre ora ha un compagno, è felice e di conseguenza lo è anche Ashley. Arriviamo al 2003. Ashley ormai ha 20 anni ed è una matricola dell'Università Statale dello Utah. Inizialmente aveva scelto di studiare fotografia, poi però aveva optato per sviluppo infantile. Ashley lavorava nella palestra della scuola e, mentre sta piegando degli asciugamani, un ragazzo le chiede di seguirlo al piano di sotto. Lei accetta e lui le presenta un suo amico di nome Emmet, dicendo che, secondo lui, loro due formerebbero proprio una bella coppia. Emmet Corrigan è un ragazzo di 23 anni, uno studente di medicina sicuro di sé. È cresciuto anche lui a Boise, nell'Idaho, e si è convertito di recente alla religione mormone, abbracciando questa fede per propria scelta. Crede nell'importanza dei valori della famiglia, della comunità e del costruire man mano se stessi per diventare una persona più forte. La fede e la famiglia, come detto, sono sempre stati pilastri fondamentali per Ashley. Questo è ciò che li accomuna. Ben presto i due iniziano a uscire insieme e Ashley si innamora subito. Emmet le piace, sente che stanno leggando molto, che tra loro c'è parecchia chimica. Lui è un ragazzo carismatico che ama la vita e le nuove esperienze. Dopo soli quattro mesi di frequentazione, Emmet fa la proposta di matrimonio ad Ashley. Ashley desidera sposarlo, vuole avere dei bambini, non le interessa di realizzarsi nel lavoro, di diventare qualcosa di più di una madre. È convinta che Emmet sia il compagno perfetto, la sua metà, la sua anima gemella. Così, accetta. I due ragazzi si sposano nel 6 marzo del 2004 e, appena un anno dopo, Ashley ed Emmet accolgono due nuove arrivate nella loro casa, le gemelline Boston e Bailey. Emmet è stato presente durante la nascita delle bambine ed era emozionatissimo. Quando sono nate, lui è scoppiato a piangere dalla gioia. Il ragazzo è un padre molto presente e felicissimo di esserlo. Non vuole perdersi nulla delle sue bimbe e le coccola tanto, anche se prendersi cura di due nonate è sicuramente un impegno non da poco. Passano due anni e arriva l'agosto del 2007. Da sette mesi c'è un nuovo membro in famiglia, ossia il piccolo Tig. Ashley spiega che quando nasce il bambino, Emmet è ancora più felice perché i suoi sogni si stanno avverando. Oltre ad avere due splendide bambine, ora ha anche un maschietto di cui occuparsi. All'inizio dell'estate la famiglia si era trasferita a Spokane, nello stato di Washington. La madre di Ashley e il suo secondo marito si erano già stabiliti lì, dove hanno un ranch. Vivendo vicini possono dare un aiuto alla coppia con i bambini e, soprattutto, Emmet può frequentare la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Gonzaga. Il ragazzo vuole diventare un avvocato, anche se per raggiungere l'Ateneo impiega circa un'ora. Ashley sa che questa situazione per Emmet è pesante, che lui è stanco, lavora sodo e studia moltissimo. Quindi in questo periodo non riesce a essere presente come prima. Piuttosto inizia ad allontanarsi dalla famiglia. Per Emmet è stato difficile separarsi da parenti e amici e ora il compito di prendersi cura dei figli ricade quasi completamente su Ashley. Avere diversi bambini porta gioia, ma è una grande responsabilità che mette a dura prova il matrimonio, perché non si ha più tanto tempo per stare da soli con il partner. Emmet è sempre molto impegnato, dunque apprezza i momenti che riesce a trascorrere con i figli e con Ashley. Per lui sono sempre i più belli. Ad esempio, durante gli inverni, che lì sono molto nevosi, la famiglia crea tanti pupazzi di neve e vanno tutti insieme sullo slettino. A novembre del 2009 Emmet finisce gli studi di giurisprudenza e la coppia ha da poco dato il benvenuto alla quarta figlia, Clea. Ora Emmet lavora e finalmente la famiglia beneficia di un reddito abbastanza stabile, anche se nel frattempo lui deve continuare a studiare. Infatti, come in Italia, per diventare avvocato non è sufficiente laurearsi in giurisprudenza. Il nuovo lavoro di Emmet si svolge in uno studio legale tributarista a Boise, nell'Idaho. Nel frattempo Emmet ha intrapreso uno stage come pubblico difensore e studia per l'esame di avvocato. Ashley è felice, pensa al loro futuro, potranno finalmente comprare una casa tutta loro. Tutto sta andando nella direzione che la coppia ha sempre sperato di percorrere. Emmet supera l'esame di avvocato e conclude lo stage nell'ufficio del pubblico difensore e, di lì a poco, Ashley scopre di essere di nuovo incinta. Non molto tempo dopo, Emmet inizia a esprimere il desiderio di aprire uno studio oltre all'attività nell'ambito del diritto tributario. Il capo di Emmet gli permette di gestire il suo nuovo studio di penalista dall'ufficio, a Boise. Emmet vuole arrotondare lo stipendio occupandosi di qualche causa penale. All'inizio prepara tutti i documenti e le pratiche per conto proprio, ma poi constata che gli occorre un assistente. Così chiede a una sua collega, Kelly Riker, se conosca qualcuno di adatto. Così entra in scena Candy Hall. Candy è una madre quarantenne di due figli adolescenti. Suo marito, il 42enne Robert Hall, detto Rob, lavora come tecnico informatico presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Ada, sempre in Idaho. Candy è un'assistente legale molto valida e affermata. Kelly, dunque, organizza un pranzo per fornire a Emmet qualche contatto nel settore e per permettergli di chiamare Candy affinché lo aiuti a preparare alcune cause penali. Candy, come detto, è una gran lavoratrice. Istruisce al meglio le pratiche ed Emmet la assume agli inizi del novembre 2010. I due trascorrono molto tempo insieme, sia in ufficio che fuori. A volte, quando si è avvocati, questa non è necessariamente una cosa strana. Ma gli orari interminabili di Emmet iniziano a pesare su Ashley, che è incinta. La donna sta affrontando questa gravidanza praticamente sola, a differenza delle altre. Si reca le visite di controllo da sola e quelle poche volte che lo fa notare a Emmet, lui inizia in nervosismo. Insiste che sta lavorando così tanto proprio per poter garantire un futuro dignitoso ai bambini. Insomma, tutti quegli sforzi li sta facendo. Per la famiglia. Un giorno, al termine di una visita medica, Ashley, piuttosto che tornare a casa, decide di passare in ufficio da Emmet, sperando di poter pranzare con lui. Tuttavia, quando arriva allo studio, Ashley capisce subito che c'è qualcosa che non va. Emmet, nel vederla, sbianca come se avesse visto un fantasma e non sua moglie incinta. Inoltre, quel giorno, Ashley incontra Candy per la prima volta. La collega di suo marito indossa una minigonna e degli stivali altissimi, forse più adatti per trascorrere una serata fuori che per lavorare in ufficio. A questo punto, nel cervello di Ashley, fa capolino un dubbio. E se Emmet mi stesse tradendo con Candy? Ma Ashley non ce la fa ad andare in fondo alla questione, sospettando di Emmet. Anzi, si sente in colpa. E archivia immediatamente questa ipotesi. Pensa sia stato soltanto un cattivo pensiero, in quanto Emmet lavora davvero tanto per garantire alla sua famiglia la vita che merita, una vita senza troppe rinunce. Quelle rinunce che, invece, hanno fatto a lungo prima di conquistare questa stabilità. Nel gennaio del 2011, Ashley dà alla luce il quinto figlio, Titus. Emmet va a trovarli in ospedale, ma è come se non ci fosse affatto. È sempre al telefono. Ashley percepisce che Emmet si sta allontanando, ma non ne capisce il motivo, né come potrebbe agire per salvare il loro rapporto. Alla fine Ashley si rivolge a una consulente matrimoniale. La coppia sta per festeggiare il settimo anniversario delle nozze. E Ashley spera che alla seduta si presenti anche Emmet, cosa che però non accade. Ashley si ritrova a parlare da sola alla consulente. Si sente davvero disperata, insignificante e sola, ma è decisa a risolvere tutti i problemi, così sarebbero andati avanti e la loro famiglia avrebbe continuato a crescere. Ashley frequenta quelle sedute con il desiderio di cambiare se stessa e correggere tutto ciò che probabilmente sbagliava, così Emmet l'avrebbe desiderata e avrebbe voluto trascorrere più tempo a casa con la famiglia. Ashley farebbe di tutto per salvare il matrimonio. Capisce che sta andando a rotoli, ma non è disposta a rassegnarsi. Emmet, tra l'altro, appare distratto, anche mentre è al lavoro. La sua collega, Kelly, ha notato che lui e Candy sono molto intimi. Scherzano e ridono, a volte addirittura flirtano, ma si convince che, nell'ambiente di lavoro, questo talvolta capita. Arriviamo a venerdì 11 marzo 2011, quando Ashley si sveglia con una grande determinazione, vuole risolvere questa situazione con Emmet. Soprattutto per i bambini. È decisa a cambiare la loro routine. Insomma, non è possibile che il padre dei suoi figli non sia mai a casa. Ormai i bimbi sono arrivati a chiederle, ma papà abita ancora qui? Ashley, pensando di fare cosa gradita, decide di andare al supermercato e comprare gli ingredienti per preparare a Emmet alcuni dei suoi piatti preferiti. Immagina che il marito, rientrando a casa e scoprendo la sorpresa, ne sarebbe stato entusiasta. Magari avrebbe pensato, mio Dio, che famiglia amorevole che ho, mi amano, guarda questi splendidi bambini, è la mia cara moglie che ha passato tutto il giorno a cucinare ciò che piace a me, ha pensato solo e soltanto a me. Ashley, però, deve scontrarsi con la realtà, che ha poco a che fare con la sua immaginazione. Anche questa volta, Emmet rientra tardi. I bambini sono stanchi, il cibo ormai si è freddato, il marito nemmeno la bacia, lei ci prova, ma lui si scansa. L'unica cosa che dice ad Ashley è «Ho già mangiato, non mi va di mangiare di nuovo». Poi riceve una telefonata, va in una stanza sul retro e al termine della chiamata dice ad Ashley che deve correre in farmacia. Ashley lo prega di rimanere a casa. Vuole risolvere una volta per tutte una situazione che per lei sta diventando sempre più pesante, ma lui la liquida dicendole «Sai che c'è, io vado». E vede di non dirmi cosa devo fare. La sera dell'11 marzo, alle 22.22, al centralino del 911, arriva una chiamata per segnalare che sono stati esplosi dei colpi nel parcheggio della farmacia Walgreens di Meridian, nell'Idaho. Pochi minuti dopo, al 911, arriva un'altra chiamata. Al telefono c'è una donna che urla disperata «Vi prego, aiutatemi! No, Robert, non farlo!» La detta del centralino cerca di tranquillizzarla. Se si trova alla farmacia Walgreens, deve solo attendere pochi minuti perché una pattuglia sta già arrivando sul posto. La gente che sopraggiunge nel luogo indicato ritrova due uomini riversi a terra. Uno sembra cosciente, l'altro ormai non dà più segni di vita. Uno sanguina copiosamente a causa di una ferita alla testa, l'altro riporta due ferite d'arma da fuoco, una sul petto e una sulla testa. La donna che, urlando, aveva chiamato il centralino è presente sulla scena del crimine e viene identificata come Candy Hall. I due uomini sono suo marito Robert e il suo capo, Emmett. Emmett, ahimè, è stato ucciso sul colpo, mentre Rob viene trasportato d'urgenza in ospedale. Sua moglie, invece, viene portata alla centrale di polizia di Meridian per essere interrogata. Gli investigatori vogliono capire cosa è successo. Quali relazioni legano fra loro i presenti coinvolti perché si trovano lì e perché una persona era morta mentre l'altra lottava per la vita. Nel parcheggio gli investigatori rinvengono tre bossoli e ritrovano la pistola con cui sono stati esplosi a 15 metri dal posto in cui i due uomini sono stati colpiti. A questo punto vogliono capire se ci sono altri testimoni e cercano altri mezzi per poter ricostruire la vicenda inclusi i filmati delle telecamere a circuito chiuso collocate all'esterno della farmacia. Quando Rob arriva all'ospedale e riprende coscienza i detective provano a interrogarlo ma lui non collabora. Dice di non ricordare che cosa ci faceva vicino alla farmacia. Forse sua figlia gli aveva detto che sua moglie era lì. I detective indagano e vengono a sapere che una delle figlie di Candy era passata davanti alla farmacia in macchina. aveva visto l'auto della madre e aveva chiamato suo padre, Rob. La ragazza trovava strano che l'automobile di sua mamma si trovasse davanti alla farmacia a quell'ora di notte e anche che lei non fosse all'interno. I detective domandano a Rob se ricorda di una lite con qualcuno. Lui risponde di sì e aggiunge che sul posto c'era un altro uomo che lo aveva aggredito. Era furioso. I detective chiedono a chi appartenga alla pistola. Robert risponde che la sua era con sé ma gli era scivolata dalla tasca. Sostiene che l'altro uomo ossia Emmett gli aveva sparato al collo. Uno dei detective a questo punto vuole sapere se anche Rob ha sparato all'uomo. Tuttavia Robert ripete no no io non ho sparato proprio a nessuno. Il detective insiste non ricorda proprio di aver sparato a qualcuno. Rob conferma no no dal racconto di Rob non è chiaro chi abbia sparato per primo né perché. Dato che Robert non è di alcun aiuto i detective sperano che Candy avrebbe fornito delle informazioni utili. Parlando con lei gli investigatori scoprono che quella sera aveva avuto una lite con il marito. Rob era uscito di casa mentre Candy aveva mandato un messaggio a Emmett. Alla fine si erano incontrati alla farmacia. filmati di videosorveglianza confermano che Candy era arrivata alla farmacia alle 21.10 ed Emmett la stava già aspettando. Candy dice che aveva parlato della vita e dei loro problemi coniugali. Lì vicino c'è anche un distributore di benzina. Candy sostiene che dopo aver parlato un po' con Emmett aveva fatto il pieno alla macchina. Stava per tornare a casa quando sua figlia l'ha chiamata per chiederle dove si trovasse. Candy l'aveva rassicurata dicendole che stava rientrando poi di lì a poco aveva ricevuto un'altra chiamata stavolta da parte di Rob. La donna sottolinea ai detective che il marito aveva problemi ad accettare che lei lavorasse con Emmett. Riferisce che Rob gli aveva chiesto che state facendo e lei gli aveva risposto stiamo solo parlando. Allora Emmett arrabbiato e frustrato per questa situazione le aveva preso il telefono dalle mani rivolgendosi direttamente a Rob. La conversazione sempre secondo la versione di Candy era degenerata e infatti Emmett si era infuriato e aveva detto a Rob stronzo ti spacco la testa. Rob allora aveva preannunciato a Candy che gli avrebbe aspettati entrambi al parcheggio della farmacia. Nel filmato si vede che Rob parcheggia l'auto col muso verso l'edificio poi entra in farmacia. Chiaramente non deve acquistare nulla quindi non si sofferma a guardare la merce esposta perché sta cercando sua moglie. Dopo aver girato la farmacia senza trovarla ritorna al suo veicolo fa marcia indietro per rimettersi allo stesso posto ma col muso rivolto verso il parcheggio in modo da poter vedere Emmett e Candy arrivare alla farmacia. Emmett e Candy ritornano al parcheggio verso le 22. Candy sostiene che fino alle 22. 22 non c'era stata alcuna aggressione fisica niente spinte né strattoni. Sì Emmett si era avvicinato alla faccia di Rob con sguardo di sfida ma lei aveva cercato di calmare le acque dicendo cose come dai basta smettetela poi stanca della situazione si era voltata per tornare verso la sua macchina e a quel punto ha sentito tre spari. Si era girata e aveva visto entrambi gli uomini a terra era corsa verso di loro aveva visto la pistola e l'aveva lanciata lontano ecco perché gli investigatori l'avevano ritrovata a 15 metri di distanza dal punto in cui due uomini erano stati colpiti parlando in modo più approfondito con Candy come detto i detective scoprono che a Rob non piaceva proprio Emmett e hanno la sensazione sempre più forte che si tratti di un triangolo amoroso tuttavia Candy non dice tutta la verità infatti non confessa che aveva una relazione amorosa con Emmett gli investigatori però dubitano delle sue parole a luna di notte gli agenti vanno a informare Ashley che suo marito è deceduto lei viene travolta da un'ondata di disperazione Emmett era la sua vita Ashley spiega che la parte più dolorosa di questa tragedia non è non avere più un matrimonio per cui lottare un marito al quale cercare di dimostrare il proprio amore ma che i suoi bambini non hanno più un papà gli investigatori intanto interrogano Kelly la collega di Emmett ovviamente vogliono sapere tutto sulla relazione tra Emmett e Candy Kelly spiega che aveva saputo della storia tra Emmett e Candy a febbraio del 2011 quando Emmett gli aveva chiesto di raggiungerlo nel suo ufficio era seduto alla sua scrivania e Candy era dietro di lui Emmett aveva riferito a Kelly che lui e Candy stavano insieme che era da un po' che si frequentavano Kelly consapevole della situazione familiare di Emmett si era alzata dalla sedia ed era andata via davvero amareggiata poi si era detta che quelli non erano affari suoi che doveva tenere la bocca chiusa con tutti dinanzi alle dichiarazioni di Kelly Candy non può far altro che dire la verità alla polizia quella verità che ha omesso negli interrogatori precedenti lei ed Emmett avevano una relazione amorosa è come se ce l'avevano adesso Ashley seppur addolorata comprende perché Emmett si comportava in quel modo i sospetti che aveva voluto accantonare erano invece fondati per la prima volta non si sente una matta che cercava un tassello mancante del puzzle della sua vita matrimoniale i detective però adesso si chiedono perché Candy non sia stata sincera fin da subito si vergognava era preoccupata perché convinta di avere qualche responsabilità su quanto accaduto ora che hanno la certezza di trovarsi dinanzi a un triangolo amoroso gli inquirenti ritengono che Robert furibondo avesse incontrato Emmett e Candy alla farmacia consapevole che erano stati assieme tuttavia occorre trovare delle prove concrete per corroborare questa ipotesi nel pick up di Robert i detective trovano le stampe di alcune email scambiate tra Candy ed Emmett in cui i due discutevano del loro rapporto è più che evidente da queste conversazioni che avevano una relazione di tipo sentimentale dunque gli investigatori sono certi che Robert quella sera fosse fuori di sé era furioso perché aveva avuto la conferma che sua moglie lo tradiva anche se lei aveva negato di avere una relazione extraconiugale da settimane forse da mesi le autorità ritengono che Rob si fosse recato lì con cattive intenzioni aveva con sé la sua pistola e stava aspettando che Candy ed Emmett tornassero nel parcheggio mentre perquisiscono il pick up di Robert in cerca di prove gli agenti rinvengono anche la fondina della pistola beh solitamente non si estrae una pistola dalla fondina se non si intende usarla questo significa che quando Robert era sceso dal suo veicolo aveva già infilato la pistola in tasca per affrontare Emmett la moglie lo aveva tradito e quello era l'uomo che gliela aveva portata via le analisi forensi intervengono a dimostrare chi ha premuto il grilletto la scientifica ritiene fermamente che i residui di polvere da sparo indicano che quella sera Robert era stato l'unico a usare la pistola sulla scena del diritto Rob aveva sparato a Emmett due volte poi aveva rivolto la pistola verso di sé è possibile che volesse suicidarsi oppure procurarsi una ferita per supportare la tesi dell'autodifesa Robert viene accusato di omicidio di primo grado perché le autorità sono convinte che quell'omicidio era stato premeditato quella sera Rob era andato alla farmacia con l'intenzione di uccidere Emmett al processo Rob sostiene che Emmett avesse sparato per primo ma le analisi effettuate dimostrano che il caricatore della pistola si trovava a una cinquantina di centimetri dal torace di Emmett quando il colpo era partito quindi non c'era stata una lotta ravvicinata provocata da Emmett allo scopo di prendergli la pistola quello era stato uno sparo intenzionale e mirato la tesi dell'autodifesa avanzata durante il processo non fa presa sulla giuria ma non ci sono abbastanza elementi per convincere i giudici che ci fosse stata la premeditazione il 25 ottobre 2012 Robert Hall viene dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado il giudice condanna Rob a 30 anni di reclusione il detenuto dovrà scontare un minimo di 17 anni e mezzo prima di ottenere l'idoneità alla libertà condizionale secondo i registri della prigione Rob rimane incarcerato presso l'Idaho State Correctional Institution di Kuna nella contea di Ada e potrà beneficiare della libertà condizionale nel 2028 dopo che Robert Hall viene dichiarato colpevole dell'omicidio di Emmett Corrigan nel 2013 Ashley parla di questa condanna dice che la sparatoria non ha soltanto posto fine alla vita di Emmett ma anche alla sua famiglia negli anni successivi all'omicidio Ashley apre un blog chiamato The Moments We Stand sperando che i lettori possano trarne un'esperienza tra virgolette curativa il suo intuito non sbaglia tantissime persone leggono i contenuti del suo blog e comprendono i suoi sentimenti oppure si fanno forza per andare avanti dopo aver vissuto una situazione simile Ashley fonda anche un'organizzazione senza scopo di lucro chiamata A Reason to Stand per fornire supporto alle persone che hanno affrontato traumi nella loro vita dopo circa sette anni dalla morte di Emmett Ashley conosce e poi sposa Scott Boyson dal quale ha due figlie Ashley ora vive con la sua famiglia nello Utah i figli che ha avuto con Emmett sono cresciuti e stanno tutti bene Candy invece ha avuto problemi con la legge dopo essere stata arrestata nel maggio del 2011 per aver rubato denaro al suo ex datore di lavoro nel 2012 si è dichiarata colpevole a fronte dell'accusa di furto aggravato e frode informatica il giudice l'ha condannata a 14 anni di carcere ha dovuto scontarne almeno due prima di poter beneficiare della libertà condizionale Candy è stata rilasciata dal carcere nel giugno del 2014 e rimarrà in libertà vigilata fino al 2026 da allora è rimasta lontana dai riflettori e non si sa molto della sua attuale situazione né dove viva detto questo ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato per voi interessante mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti soprattutto perché effettivamente Ashley secondo me ha avuto una grande forza ed è riuscita a riprendersi è riuscita ad andare avanti con la sua vita e soprattutto è riuscita a perdonare Ashley ha davvero perdonato è riuscita a fare questa cosa che secondo me è complicatissima e credo che ci sia davvero tanta purezza e bontà nel suo animo la trovo davvero una ragazza una donna anzi davvero fortissima e con tanta voglia probabilmente di rinascere di rincominciare di riprovarci voi cosa ne pensate soprattutto cosa ne pensate proprio della vicenda in sé del triangolo amoroso ma anche di Ashley che secondo me si è ripresa in modo incredibile io sono davvero davvero quasi contenta di aver finito questa storia questo caso e aver letto questa cosa perché ci sono purtroppo persone che non si riprendono mai e quindi trovo che Ashley sia davvero una donna tosta e nella sua vita l'ha dimostrato ampiamente detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale mi raccomando ciao a tutti ciao a tutti